Antonio Cialdini, portiere del Teramo praticamente da un mese, come procede il tuo inserimento nel nuovo ambiente, in questa nuova importante esperienza professionale, forse anche la prima? Sì, la prima perché giociamo nei settori giovanili, sia a Lanciano, sia sempre a Lanciano tra spalle, Lanciano che sono divisi. Sì, come ho detto, la prima è stata importante, siamo partiti non tanto bene con un punto, la Civitanovese è andata benissimo, però ci siamo ripresi, mi hanno fatto ambientare alla perfezione, i compagni splendidi mi hanno, cioè per un anno perfetto, sto partendo proprio perfetto. Hai qualcosa da recriminare per quanto riguarda le tue prestazioni, ritieni di poter migliorare, ritieni invece di essere a buon punto, cosa ci dici? Come ho detto prima, non sono partito proprio alla perfezione, sinceramente mi sono allenato bene, mi sono allenato bene, però la fortuna non è stata proprio da mia parte nella prima partita, nella seconda un po' meglio, nella terza non è andata proprio alla perfezione, però non posso aumentare. Ecco, a Teramo comunque le cose vanno bene, la squadra è prima in classifica, sai bene che c'è pressione qui e c'è voglia di vincere, di tornare tra i pro. Beh sì, con una società come Teramo sinceramente non l'ho mai trovata, a Lanciano sì, c'erano tutte queste cose che sono qua, però una società bellissima, ci sta proprio bene, ci sta proprio bene, 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 però quando riguarda il fatto del campo, del calcio e tutto quanto, speriamo di andare bene, di vincere il campionato e vediamo come andrà. Senti, sei pronto alla competizione, sta rientrando Serraiocco che doveva essere un po' il titolare designato, poi ha avuto dei contrattempi fisici, ora che sta tornando sei pronto a questa sfida interna? Beh sì, io mi impegnerò durante gli allenamenti, sia fuori che dentro il campo, impegnerò, poi sarà il mister a decidere.